da poco introdotto per espandere verso l'alto la gamma di furgonati busner l'eliseo è proposto in quattro versioni di cui due l'abbiamo proprio qui davanti a noi sono l'eliseo 540 e l'eliseo 600 sono due modelli molto simili tra loro entrambi allestiti su meccanica fiat ducato e con uno schema abitativo quasi identico ma non sono due mezzi uguali le dimensioni fanno la differenza 541 cm di lunghezza per l'eliseo 540 destinato a chi cerca il massimo della mobilità e un'estrema facilità di parcheggio questo veicolo trae vantaggio anche dal passo corto da 345 cm l'eliseo 600 invece adotta la classica lunghezza media dei van 599 cm e il passo lungo da 403 cm un optional di sicuro interesse è il tetto sollevabile a soffietto che garantisce due posti letto aggiuntivi oltre alle finestre a filo carrozzeria con telaio integrato i van eliseo offrono di serie la zanzariera sul portellone e il gradino estraibile elettrico sostanzialmente identico nei due veicoli il vano di carico che può ampliare notevolmente la sua volumetria sollevando parzialmente il letto ma scopriamo ora quali sono le differenze all'interno dei due veicoli l'eliseo 540 ha una classica zona pranzo e viaggio dotata di divanetto due posti e sedili girevoli della cabina l'eliminazione della cappelliera crea un ambiente aperto e agevoli passaggi da e verso la cabina il divanetto è dotato di attacchi isofix e particolari non comune alla regolazione della seduta e di conseguenza dello schienale decisamente caratteristici faretti che possono essere staccati dalla loro sede e posizionati sul tavolo diventando delle lampade indipendenti il blocco cucina è dotato di frigorifero a compressore da 75 litri con anta a doppia cerniera quindi si può aprire dall'interno dell'abitacolo ma anche dall'esterno rimanendo in veranda il piano cottura due fuochi è posizionato accanto al piccolo lavello il piano d'appoggio considerate le dimensioni del veicolo non è scarso perché abbiamo una mensola posizionabile sopra il frigorifero e un ulteriore spazio sopra l'armadio per quanto riguarda invece lo spazio di stivaggio dobbiamo contentarci abbiamo a disposizione un pensile e tre cassetti nella base il bagno è compatto ma non troppo sacrificato è dotato di serranda scorrevole per evitare l'ingombro dell'anta per l'aerazione abbiamo una piccola finestra il bagno è dotato anche di asta appendiabiti il letto matrimoniale posteriore è aerato dalle due finestre di coda per lo stivaggio ci sono i pensili laterali e una ampia mensola sul fondo l'armadio è piuttosto stretto ma alto ed è molto pratico perché è scorrevole il letto aggiuntivo posto nel tetto sollevabile è accessibile mediante la scaletta posizionabile nella zona del tavolo il letto matrimoniale tutto sommato a buone dimensioni ed è aerato da tre finestre apribili ricavate nelle paretine in tela passiamo ora all'abitacolo dell'eliseo 600 e cerchiamo di capire quali sono le differenze rispetto a quello del fratello minore anche in questo caso la zona anteriore dell'abitacolo gode di una continuità cabina abitacolo grazie all'eliminazione della cappelliera sopra la cabina il living però trae vantaggio da un tavolo più ampio più profondo sempre dotato di prolunga girevole completamente diverso è il blocco cucina perché il frigorifero non è incassato nella base ma è nella colonna di fianco ed è un frigorifero decisamente più capiente è un modello a compressore da 135 litri maggiore è lo spazio di stivaggio nella base perché non abbiamo il frigorifero che occupa spazio in questo caso abbiamo tre ampi cassetti a tutta larghezza il bagno è decisamente più spazioso di quello dell'eliseo 540 25 centimetri in più di larghezza non sono pochi in un van di queste dimensioni e questo è possibile perché l'armadio è stato incassato sotto al piano del lavabo ed è sempre un armadio estraibile molto pratico sostanzialmente identica la configurazione della zona notte posteriore con un matrimoniale trasversale aerato dalle due finestre di coda nessuna differenza per quanto riguarda il letto matrimoniale ricavato nel tetto a soffietto però su questa versione è stato inserito un oblò che dona aria e luce anche al living sottostante sì 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 Grazie.